Ciao Grillo, Monti ha detto andiamo insieme in tv a confrontarci con Bersani e Berlusconi, lei ci andrebbe? Ragazzi scusate, se ne sto scusatemi ma ho visto state ho risposto io ma io ci sono tutti i giorni, me lo stai dicendo mentre mi stai inquadrando, sei meraviglioso ti voglio bene